Bella a tutti ragazzi, prima di iniziare il video volevo dirvi soltanto che dato che ho cambiato il bg del canale, il background, e sicuramente l'avreste notato nel caso vorreste farne anche voi una, cioè vorreste farvela fare da qualcuno perché non siete pratici come me, potete andare al canale di Gabri HD Tech uno youtuber che infatti disegniai grafica con photoshop e che mi ha fatto il bg se volete farvi fare un bg potete chiedere a lui tramite il suo canale che vi lascio sempre in descrizione, bene detto questo ci vediamo al video, ciao bello a tutti ragazzi, sono volto venuto in questo nuovo video allora ragazzi oggi sono veramente felice perché ragazzi ormai è arrivato a settembre, sta per iniziare la scuola cosa che magari a qualcuno potrebbe anche non piacere, a tutti potrebbe non piacere però alla fine ragazzi cosa è che raffigura settembre? autunno, autunno cosa significa? una marea di videogiochi che usciranno per settembre ragazzi cioè per i mesi da settembre a novembre ragazzi quindi oltre l'uscita di GTA per next gen che di sicuro prenderò dovevo parlare di diversi giochi e quindi vi giuro ragazzi non vedo l'ora ci saranno tantissimi giochi questo settembre e quindi tanto la scuola dai ragazzi cioè è una cosa bypassabile perché alla fine il divertimento c'è come c'è stato tutto l'anno alla fine quindi ragazzi non vi preoccupate pertanto poi per i compiti, chi cazzo li fa i compiti? nessuno studia quindi quest'anno ci pare una bella giornata diciamo oggi è una bella giornata perché fa veramente freddo almeno da me e probabilmente siamo a settembre ragazzi siamo appena entrati in questo mese ormai vabbè i giorni festivi sono finiti ragazzi purtroppo per tutti però ragazzi il fatto che faccia questo video è solo per dirvi che per augurare in bocca al lupo per quest'anno magari non so per chi ha un esame o per chi non lo so ha un lavoro importante da fare comunque di cosa così io ragazzi vi faccio i migliori auguri però visto che è da tantissimo che non faccio un video veramente tanto quasi quasi non mi ricordo come iniziavo né cosa facevo posso dirvi soltanto che sono veramente felice sono felicissimo che il fatto che a settembre mi prenderò a fare video con molta più monotonia di quanto abbia mai fatto perché ragazzi il progetto Blue Shark è quasi pronto vi direte cos'è questo progetto Blue Shark è il progetto PC che ho in mente che sto facendo ultimamente sulla pagina Facebook l'ho pubblicato tantissime foto tantissimi momenti di questa di questa iniziativa che ho preso io e ragazzi cioè il PC è quasi pronto cosa voglio fare in questo PC? beh ragazzi passerò a PC semplicemente sto aspettando moltissimi giochi per Next Gen e quindi che usciranno anche per PC ho pensato vai prenderò il PC meglio che una console quindi ragazzi il PC è praticamente quasi pronto però vi dirò subito che GTA lo riprenderò a portarvi glitch e video di questo genere e li porterò diciamo a novembre perché Rockstar ha dato una conferma che sarebbe uscita a novembre GTA 5 per PC e Next Gen in generale quindi dovremo aspettare secondo me questa cosa porterà oltre a GTA 5 anche un aggiornamento di tutte le patch quindi cosa voglio dire? voglio dire che è molto molto probabile che con l'uscita della Next Gen faranno uscire anche le rapine online e tutte queste cose che ragazzi io vi giuro stavo aspettando con la croce nel cuore perché veramente sono veramente in entusiasta per questa situazione che si sta compiendo ultimamente perché GTA sta crescendo veramente tanto soprattutto per Next Gen sarà veramente spettacolare vi assicuro che io non lo so non so nella pelle veramente però bisogna ancora aspettare qualche mese però aspetteremo tanto che ci sono bellissimi giochi che ci sono già online prima di tutto ragazzi non lo so parte di Dark Line tantissimi giochi non mi ricordo Destiny che purtroppo non ho ancora provato quindi non mi so dire cosa se è bello o meno ma ho detto tantissime è bello è bello ok lo proveremo vedremo comunque Call of Duty Advanced World sperando che sia bello sperando perché Call of Duty costa da un sacco ma un sacco di delusioni da parte di chiunque di chiunque della community di Call of Duty va bene sperando che questo questo capitolo sia a portata di tutti io vi lascio con questo video e comunque ragazzi il progetto pc che si chiamerà Blue Shark poi vi spiegherò anche perché comincerà tra pochissimo ragazzi cioè sarà magari il prossimo video quindi ragazzi in questo caso non so cos'altro dirvi il canale si sta crescendo ho cambiato intro ho cambiato BG ho cambiato un sacco di cose vabbè sia sono ragionamenti principali del canale il BG mi è stato fatto però da un altro youtuber si chiama Gabri HD Tech è un youtuber vi lascio sempre il link in descrizione mi sa che ve lo avevo già detto comunque nella intro principale e quindi cosa devo dire soltanto che il BG è venuto bene nel caso non lo so non siate molto pratici con photoshop come me io sono spastico su photoshop potete andare a chiedere a lui potete contattarlo tramite skype io ho contattato così quindi potete contattarlo in diversi modi io vi lascio il link del suo canale in descrizione in modo che potete andare a vedere ragazzi comunque il progetto pc soprattutto ha preso piede su facebook sulla mia pagina che vi lascio sempre in descrizione andate a vedere qualche volta perché potrebbe essere interessante dato che il pc ragazzi è quasi pronto ho lasciato tutte le foto su facebook che vi porto anche in questo video che seguono in questo video in modo da farvi vedere quanto è figo e cazzuto questo pc vabbè ragazzi detto questo ci vedremo in un prossimo video sperando che sia sul pc perché ragazzi ormai è quasi pronto non vedo l'ora di portarvi qualche gameplay su addio non vedo l'ora ragazzi ci vediamo in un prossimo video e bella a tutti ciao